Prosegue con un bilancio estremamente positivo la stagione turistica sul Gargano. Al primo giro di Boarro, di Garganico, Lido del Sole e su tutto il Gargano, non c'è ancora il sold out, ma, come confermato dal presidente del Consorzio degli Operatori Turistici, Gargano Key, Bruno Zangardi, le prenotazioni per agosto e settembre aumentano giorno dopo giorno. Fra i turisti italiani si registra un incremento di presenze dalla Toscana, dal Lazio e dalla Calabria. Il dato più rilevante, tuttavia, riguarda l'aumento di afflusso da parte di francesi e tedeschi. In questo sicuramente sta svolgendo un ruolo fondamentale l'aeroporto Ginolisa di Foggia, che, come detto dallo stesso Zangardi, sta funzionando molto bene, in quanto permette ai turisti di raggiungere rapidamente la destinazione scelta.